Ciao a tutti amici sportivi, questa sera con Danny Mastella per tutti i Maste, difensore centrale del Real Birretta. Real Birretta è una squadra, come potete immaginare, di amici e amatori che tutte le settimane si trovano e fanno questo campionato. Però io direi, Danny, raccontaci un po' tu questa benavigliosa esperienza. Allora, partita con, diciamo tre anni fa, con il gruppo fondatore, presidente, dirigenza e mister, e l'anno scorso vincenti del campionato e quest'anno vogliono ripetersi, non sarà facile, però il motto è sempre divertirci, prima di tutto. Siamo dai 16 ai 18 ragazzi, vogliosi di fare. Dove giocate, Danny? Giochiamo a Barasso e Varese, lo stadio. E niente, il nostro ritrovarsi non è il tanto vincere o... l'importante è stare insieme. Lo spirito giusto, no? Stare insieme, passare tre orette insieme tra pre-partita, partita e post-partita. Avete uno sponsor? Abbiamo uno sponsor, la Botte di Varese. Sponsor importante, ha sempre sponsorizzato la palacanestro. Sponsor importante e comunque il nostro motto è sempre divertirci. Non i minuti, non conta quanto giochi, ma quanto cuore metti nella partita. Anche se giochi un minuto devi dar tutto in quel minuto. Ci sono tante squadre nel vostro campionato? Ma ci sono due gironi da 12 squadre. Ah, quindi un bel campionato. Un bel campionato, bellissima come organizzazione e come spirito. Cioè in campo si lotta e tutto, fuori dal campo tutti amici. Possiamo andare anche a bere la birretta insieme, che nessun problema. Ottima organizzazione e niente, speriamo di fare bene. Il motto è sempre divertirsi e che Dio ce la mandi buona. Allora, amici sportivi, completiamo questa bellissima intervista con uno sportivo vero come Dani Mastella, detto Mastella, vi aspettiamo tutti al centro sportivo di Barasso o all'antistadio, dove potete ammirare non solo la Real Birretta, ma tantissime altre realtà come quella che ci ha descritto Dani. Ciao a tutti, ciao Dani e buoni in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Grazie. 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 Grazie.